A tutti bentrovati per il nostro settimanale appuntamento con Voce e Parola, l'informazione a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, la Voce dei Berici e Radio Oreb. In apertura i 100 anni dell'Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi, una lunga storia ma sempre lo stesso impegno. L'annuncio del Vangelo è un accompagnamento nella fede e non solo per i più piccoli, come sottolinea il direttore dell'Ufficio, Don Giovanni Casarotto. Il 15 febbraio 1924 venne fondato l'Ufficio Catechistico nella Diocesi di Vicenza per opera di Monsignor Ferdinando Rodolfi. Proprio allora infatti, per far fronte all'insegnamento religioso nelle scuole, alla formazione di ragazzi nelle parrocchie, in tante diocesi nascevano gli Uffici per la Dottrina Cristiana. Oggi a Vicenza Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi che vuole in questo anniversario rendere grazie per le tante persone, laici, preti, religiosi e religiosi che vivono e annunciano il Vangelo. Domenica 18 febbraio celebreremo questo anniversario, cento anni, che non vogliono essere solo un momento esteriore per ricordare un evento, ma tanto impegno delle nostre comunità cristiane che oggi diventa ancora più attuale. Spesso associamo la Catechesi ai sacramenti, ai ragazzi, ai bambini, ma sappiamo che l'incontro con la Parola, con il Signore, è lungo tutta la nostra vita. Per questo la celebrazione che vivremo sarà domenica 18 febbraio alle ore 18 in cattedrale con la preghiera del Vespro assieme al Vescovo Giuliano. In questa occasione, prima domenica di Quaresima, ogni anno viviamo il rito di elezione dei catecumini, uomini, donne, giovani, adulti che chiedono di diventare cristiani e di celebrare a Pasqua i sacramenti dell'iniziazione cristiana, il battesimo, l'acresimo, l'eucaristia. La scelta allora è felice per ricordarci che l'impegno della nostra Chiesa è di generare la vita di fede, le comunità, i giovani, gli adulti, i ragazzi, le famiglie. Ecco perché abbiamo scelto di collocare in questa occasione questo anniversario, questa celebrazione. E sempre domenica 18 febbraio il Museo di Ecesano offrirà a tutti due possibilità di visita al prezzo simbolico di un euro, una visita libera dalle 14 alle 18 e una visita guidata su prenotazione, catechesi tra passato e futuro alle 16 alle 16.45 con la proposta di un percorso per scoprire i tesori di bellezza cui l'arte e la fede hanno dato vita nella nostra terra. Non è bene che l'uomo sia solo, curare il malato curando le relazioni e questo è il titolo della 32esima giornata mondiale del malato che si celebra questa domenica 11 febbraio. E allora vi proponiamo la testimonianza di Rita Castegnaro che da 40 anni fa l'infermiera e dedica la sua vita proprio alla relazione che cura. Quanti sono i malati nelle nostre parrocchie? Ci sono persone diversamente abili? Vediamo situazioni critiche per il loro coinvolgimento o che mettono a repentaglio la salute in generale? Ci sono nelle nostre comunità ministri straordinari dell'eucaristia, della consolazione o gruppi di sostegno per le famiglie in difficoltà? La giornata del malato, l'11 febbraio, ricorda Papa Francesco, deve essere per noi un invito a porci queste domande e a fare nostro lo sguardo di Gesù per prenderci cura di chi soffre o di chi è solo e marginato. Mai come oggi infatti, di fronte alla cultura dell'individualismo che coltiva il mito dell'efficienza e dell'indifferenza verso chi non riesce a stare al passo, è necessario dare tempo e spazio alla relazione. Come testimoni anche Rita, infermiere e counselor che accompagna Accoglie nell'ascolto. Io credo che sia il nocciolo fondamentale quello della relazione e curare la relazione. Mi viene anche da dire che non è così semplice curare la relazione perché spesso l'operatore può, come dire, farsi prendere dalla fretta e farsi prendere dalla preoccupazione di riuscire a compiere tutto il suo mandato, il suo lavoro. Insomma, fretta e carenza di personale possono allungare di molto i tempi della cura. Fondamentale prendersi del tempo per portare ascolto una parola, un gesto. Una carezza o lo sguardo, o guardare la persona negli occhi potrebbe davvero qualitativamente essere una risposta diversa. Anche il Papa nel suo messaggio sottolinea proprio l'aspetto della relazione e della comunicazione con la persona in tutti gli ambiti, non solo negli ambiti sanitari. Quindi ecco, mi permetto di dire che è fondamentale curare proprio una relazione che sia significativa e che cura la persona. Dalla cura del corpo alla cura dell'anima è partito il pellegrinaggio della fiaccola della speranza che raggiungerà tutte le comunità religiose della diocesi. Siete parte viva della Chiesa che è in cammino e voi tenete accesa la fiaccola della speranza. Sono le parole che il Vescovo Giuliano ha rivolto ai consacrati durante la celebrazione a Monteberico il 2 febbraio scorso della giornata mondiale per la vita consacrata che ha visto la partecipazione di oltre 500 religiosi e religiose, sacerdoti e fedeli laici da tutta la diocesi. E sarà proprio il pellegrinaggio della lampada della speranza che toccherà su iniziativa di usmi e cismo, unione delle superiore maggiori d'Italia e conferenza italiana dei superiori maggiori. Tutte le 107 comunità religiose presenti nei 14 vicariati della diocesi. A proseguire ora quel momento di comunione fra tutte le persone convinte, come ha detto lo stesso Vescovo Giuliano, che la luce splende nel mondo e le tennebre non sono in grado di soffocarla. Una fiaccola che unirà anche nella preghiera per ravvivare la missione propria di ogni istituto, ma anche partecipare all'ancor più grande sinfonia della preghiera voluta da Papa Francesco per il prossimo giubileo, che inizierà il 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa di San Pietro. E ora con il direttore Don Alessio Graziani le principali notizie nel prossimo numero del settimanale La Voce dei Berici. In occasione della giornata mondiale del malato vi proponiamo un approfondimento sullo stato di salute della sanità pubblica in Veneto, alle prese con gravi problemi come le lunghe liste d'attesa per le visite mediche, la carenza di medici di basi e in vista anche il rinnovo di tutti i dirigenti delle USL. Apriamo la sezione di insieme con due pagine dedicate al tempo della Quaresima, che inizierà a metà della prossima settimana. Ancora vi raccontiamo della Lampada della Speranza, questo segno luminoso partito da Monteberico lo scorso 2 febbraio e che nell'arco di un anno toccherà tutte le 107 comunità religiose sparse nel territorio della Diocesi. Nella sezione Orizzonti abbiamo intervistato padre Giulio Albanese sul piano Mattei per l'Africa e ancora il racconto della storia di Romana scappata dall'Istria la ricordiamo in occasione della giornata del ricordo. Nelle pagine di Tempo Libero la riapertura al pubblico del giardino della chiesa di Santa Corona grazie ad un accordo tra comune e diocesi di Vicenza e infine anche un approfondimento sportivo sull'Arzignano Calcio che in Serie C, al pari del Vicenza, piace e convince molto di più. Passiamo agli appuntamenti in agenda e poi anche l'inizio della Quaresima, ma prima con il Vescovo Giuliano la messa all'ospedale San Bortolo di Vicenza per la giornata mondiale del malato martedì 13 febbraio alle 15.30. Il rito delle ceneri in apertura del tempo di Quaresima a mercoledì 14 febbraio alle 18.30 in cattedrale. E poi ancora alle 20.30 la veglia penitenziale dei giovani del vicariato urbano con il rito delle ceneri nella chiesa di Sant'Antonio ai Ferrovieri. Il ritiro di Quaresima per il clero diocesano e quindi presbiteri, diaconi e religiosi, incentrato sulla spiritualità di San Gaetano Tiene e rinnovamento sacerdotale giovedì 15 febbraio alle 9 alla Basilica di Monteberico. Gli esercizi spirituali per catechisti accompagnatori nella fede dal 16 al 18 febbraio alle 18 a Villa San Carlo di Costa Bissara guidati da Monsignor Beniamino Pizziol. È il momento della parola con il Vangelo della Domenica a cura di Don Giampietro Zampiva della Pia Società San Gaetano di Vicenza. Ben trovate al commento del Vangelo di questa Domenica che ci presenta la guarigione del Lebroso. Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Marco al versetti 40-45. In quel tempo venne da Gesù un Lebroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse lo voglio, sii purificato. E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontano e si mese a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Il racconto presenta un succedersi di inosservanze. Il lebroso va da Gesù e non poteva farlo. Gesù tocca il lebroso e non avrebbe dovuto farlo. Poi Gesù gli comanda di non dire niente a nessuno e il lebroso invece va a dire tutti quello che il Signore aveva fatto. Già questo è un primo insegnamento. E cioè che noi non andiamo dal Signore Gesù quando siamo tutti in regola. Noi andiamo dal Signore Gesù così come siamo, non perché siamo cristiani di marca, cristiani di firma, griffati. Il Vangelo di Marco dopo aver raccontato tanti dettagli sulla guarigione della socia di Pietro e prima ancora dell'uomo posseduto dallo spirito impuro nella sinagoga di Cafarnao. Dopo tutti questi dettagli così precisi a Cafarnao, ora per raccontare la guarigione del lebroso non dice nulla. Quasi, quasi ci sembra anche di non riuscire a individuare in quale posto, in quale luogo preciso Gesù abbia compiuto questo miracolo. E questo sembra esserci di aiuto per ampliare i nostri confini della riflessione. Perché quasi, quasi ci vuole dire il testo che di lebra facciamo tutti esperienza ed ovunque, cioè la lebra contagia in ogni posto. E Gesù al vedere il lebroso neve compassione e il testo in origine dice che Gesù si arrabbiò. Gesù affronta così la malattia. Gesù quasi, quasi fa pugni con la malattia, si mette di fronte per fermarla, fa capire che sarà lui l'ultima parola e non la morte e la malattia. E personalmente mi colpisce sempre quando Gesù è messo di fronte al mistero del dolore. Mi colpisce che non faccia mai discorsi, ma si avvicina, si accosta, prende per mano in questa sua esperienza di vicinanza. E poi una volta guarito Gesù caccia via il lebroso. Gesù non si serve delle persone per far crescere i followers che possono farlo diventare più importante ancora. Gesù vuole la guarigione e il bene dell'uomo che stava lì davanti e che perdeva pezzi di vita, malato di lebra. Gesù non cerca mai un tornaconto d'immagine, caccia via quest'uomo perché eventualmente lo vorrà ancora con lui solamente se sceglierà di essere suo discepolo. E l'ebroso guarito disobbedisce a Gesù e racconta a tutti l'accaduto. E anche questo ci insegna che la guarigione ha un suo compimento quando viene condivisa. Non si tratta mai quando abbiamo a che fare con il Signore Gesù che ci libera e ci guarisce. Non è mai un fatto coperto dalla privacy come se si dovesse conservare nel fascicolo sanitario riservato. Ma quanto noi riceviamo in dono e per grazia va sempre condiviso e annunciato agli altri. Il racconto termina ricordando che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, in luoghi pubblici. E se ci pensiamo questa è la condizione dell'ebroso. Gesù quando guarisce, quando sana, quando libera, prende su di sé la condizione di chi ha guarito. E così Gesù non solo opera ma si identifica sempre con colui che incontra. Il messaggio di questo racconto del Vangelo è di insegnamento anche per la vita religiosa chiamata non solo a gestire opere ma ad assomigliare sempre più a Gesù, il quale non solo opera quando incontra qualcuno, quando lo guarisce, quando lo libera, ma si identifica nella condizione in cui egli si trova a vivere. Così anche noi religiosi possiamo attraverso le nostre opere fare esperienza condivisa, di essere sì vicino alle persone per aiuto e servizio ma siamo chiamati a identificarci sempre più anche nelle loro condizioni per camminare insieme. Buona domenica a tutti nell'ascolto del Vangelo di oggi. Voce Parola termina qui appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!